Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Oggi facciamo ravioli cinesi con ripieno gamberi e Chinese chives. Ricordate del like, vero? Allora, cominciamo a mischiare 300 g di farina con 120 ml di acqua tiepida, aggiungendo poco alla volta e lavorare ottenendo l'impasto. Poi farlo riposare. Fare uova strapazzate con tre uova. Sgusciare e pulire i gamberi. Tritare i gamberi, mixare con l'uovo, aggiungere pepe, due cucchiai di poco chicken essence, un cucchiaio di salsa ostriche e mischiare tutto. Poi aggiungere un filo d'olio. Tagliamo Chinese chives, mixare il tutto. Per l'impasto, lavorare ottenendo strisce a lunga. Tagliare i pezzi a ecco. Poi schiacciarli, usare mattarello ottenendo la forma rotonda. Aggiungere l'impieno e inchiuderlo così. Piano piano ci prendete la mano. Bollire l'acqua nella pentola. Aggiungere gli ravioli pronti. Girarlo un po', così facendo non si appicciciano. Fare attenzione, non bucarli però. Quando gli ravioli si cominciano a galleggiare, aggiungere altri metà bicchieri d'acqua. Poi l'acqua si bollisce nuovamente e vuol dire sono pronti i ravioli. Hai imparato la ricetta? Se trovate interessante questo video, ricordatevi di seguirci. Like, share. Ci vediamo alla prossima.